Ciao a tutti Vi dirò 50 cose che molto probabilmente non sapete su Minecraft I quadri, essendo delle entità e non degli oggetti, sono ottimi mori per nascondere porte La glowstone può portare l'energia a resta verso l'insù, ma non verso l'ingiù La saulstone è un ottimo materiale per la creazione di porte che permettono solo l'entrata, ma non l'uscita Il ghiaccio e l'acqua sono invisibili dietro il ghiaccio E viceversa Difatti, attraverso l'acqua non è possibile vedere il ghiaccio Puoi entrare in un minecart anche attraverso delle scale Su una lampada di resta potete mettere torce, bottoni, leve e addirittura per subplate Quando una lampada di resta viene attivata, attiverà anche i blocchi aree sadiacenti I cactus distruggono qualsiasi cosa e li venga droppata contro, quindi sono un'ultima alternativa all'incendio initore fatto di lava E' possibile piazzare le zucche in terra, ma non in aria Eppure, spaccando sotto, queste rimarranno in aria E per subplate, le scale verticali, i cartelli, le fence, i cancelli se aperti che chiusi, le bottele se aperte che chiuse Bloccano l'acqua Non è possibile aprire il chest con un blocco sopra, ma è possibile aprire il chest con delle scale sopra O con un blocco di terra zappato Il vostro cane non vi aiuterà a combattere contro un creeper Seppur essendo Minecraft completamente cubico, le ombre dei mob sono tonde Il vostro cane non può venire con voi nel nether I leopardi spaventano i creeper E' possibile spingere qualsiasi tipo di binario attraverso un pistone Se mettete sopra del ghiaccio, delle lastre di brick, di mattoni, di cobblestone o delle torte Scivolerete comunque Inchinarsi aumenterà la distanza da cui potrete distruggere o piazzare oggetti Gli zombie e gli scheletri che stanno sopra la Saulsen durante il giorno non vengono bruciati dal sole Mentre quelli che non lo sono ovviamente vengono bruciati L'ender brick è il blocco che, dopo l'ossidiana, che non riceve alcun danno Registere i più alle esplosioni da TNT o creeper 6-7 stack di carbone messi in una fornace vi faranno luce per un'intera notte Sparare una freccia contro un minecart con chest farà droppare la chest Il minecart e tutta la roba all'interno della chest Le torte scompaiono se si spacca il blocco su cui sono poggiate Oppure se si usa un pistone contro di esse Se morite in un chunk e poi venite spawnati lontani da questo Il countdown della sparizione degli oggetti partirà da quando Minecraft carica da quel chunk Quindi è utile in questi casi mettere come render distance Tiny Saltando e correndo contemporaneamente andrete più veloce che solamente correndo Non è possibile vedere un portale per il nether attraverso del ghiaccio o dell'acqua Non c'è bisogno di costruire un orologio o una bussola perché funzioneranno anche direttamente nella finestra del crafting Senza doverli per forza craftare Se piazzate un letto nel nether e cercate di dormire il letto scopierà È più raro trovare una zucca che un diamante Le scale vi rallenteranno se correte Tutte le frecce lanciate alla massima potenza sono considerate critiche Si può craftare un anguola intera attraverso 9 spicchi anche se quando quest'ultima viene rotta ne droppa molti di meno Se una mucca normale si accoppia con una mushroom c'è una possibilità su 2 che la mucca sia o normale o mushroom quindi 50-50 praticamente A causa di un bug di japan non si possono fare dei pupazzi di neve attraverso un pistone Il metodo migliore per rimuovere le erbacce e usare un secchio d'acqua I picconi in legno, pietra, ferro e oro ci mettono 250 secondi per spaccare un blocco rossidiana Mentre quello di diamante ci mette esattamente 9,4 secondi Il che rende il piccone di diamante circa 27 volte più veloce rispetto agli altri Givandovi il blocco 64 otterrete mezza porca Quando questa porta verrà spaccata però noterrete una intera Osservate? Eccola qua Nel codice di minecraft la luminosità di un oggetto si quantifica con un numero Quella di una fornace accesa è pari a 13, quella di una torcia è pari a 14 Ciò rende una fornace solo leggermente meno luminosa di una torcia C'è circa una possibilità su 100 che un villager blacksmith come questo qua Possa scambiare con voi dei pezzi di un armatore in maglia che attualmente non è craftabile E' ottenibile solo attraverso questo scambio con questo villager qua Oppure attraverso il drop dai mob Bere del latte mentre siete sotto l'effetto di una pozione Ne bloccherà l'effetto Il miglior combustibile per una fornace è un secchio di lava Difatti la farà rimanere attiva per 1000 secondi Inoltre il combustibile che brucia più velocemente gli oggetti Correndo su un terreno piatto andate circa a 20 km orari Mentre su un minecart andate a circa 25 Dalla 1.3 è possibile attivare una pistol plate attraverso una freccia I golem di ferro e i lupi sono gli unici mob che vi possono colpire anche in modalità peaceful Se mangi mentre sali andrai più lento Un giorno e una notte in minecraft sono lunghi esattamente 20 minuti Le torce di reston fanno esattamente la metà della luce rispetto alle torce normali Il creeper deriva da un tentativo fallito di noccio di creare un modello per il maiale E quindi il video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Tutti questi fatti li ho trovati su minecraft week o su video su youtube Se il video vi è piaciuto mettete mi piace E per video simbi iscrivetevi al mio canale Quindi se il video finisce qui Io vi saluto Ciao a tutti Grazie 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 Grazie